ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video vediamo una funzione inaspettata di chrome e di come si possa aprire un file pdf e stamparlo senza l'ausilio di altri applicativi chrome ha una funzione inaspettata ma molto utile se occorre aprire un file pdf per poi eventualmente stamparlo si può fare semplicemente trascinando il file in chrome una volta trascinato verrà aperto dal browser che in alto a destra avrà disponibile l'icona di stampa proprio come nello storico adobe reader questa è una funzione che chrome fornisce e rende compatibili tantissimi formati pdf grazie per la visualizzazione al prossimo video un like fa sempre piacere